Il 14 febbraio del 98 Abbiamo fatto la trasmissione per tutta la vita Però ad aprile del 98 abbiamo fatto una Domenica Inn insieme Con Thomas che ti correva incontro Che era il nostro cane Facciamola con te No, è vero, è stata co-conduttrice di una puntata di Domenica Inn È verissimo, però ne avevamo fatto un'altra il 23 novembre Che era stata una cosa eccezionale Un successone C'eravamo divertiti come Marco Ah, non lo so, io ne sono fuori completamente Quindi non lo so, ma penso di immaginare Che su un tavolo dove ci fossero Hanno buttato tanti nomi, eccetera Magari ne sia stato preso uno da Fabrizio Sì, sì, ma insomma Perché, perché, perché Ripeto, per dieci anni avevo avuto la posta Cioè, lui l'ha detto il motivo Non è che era tanto per Sì, sì, no, no, vabbè Insomma, diciamo che di fronte alla possibilità Di scegliere una persona con peso specifico Esperienza, capacità di prendersi responsabilità E di avere a cuore i valori e le scelte degli altri Ho pensato che Rita era la persona ideale Perché in questo Umanamente straordinaria E poi è una bravissima professionista Siccome era lecito chiederglielo Gliel'hanno chiesto E lei è stata contenta Io sarò in diretta via satellite No, no, allora Stiamo in studio Giochiamo di squadra Anche con altre persone Però interagiamo Diciamo che Ognuno racconta Un pezzetto della storia di queste persone E Rita Scaverà Giusto? Beh, io cercherò di scavare Fabrizio naturalmente Presenterà questa persona La farà parlare Farà raccontare la storia E se io Ci sono delle cose Di questa persona Che ha detto Che magari mi sono rimaste qui Che non ho capito bene Io tornerò Ovviamente Ci tornerò sopra Gli chiederò qualche spiegazione E poi alla fine Mi verrà chiesto un consiglio Io non so dare consigli A me stessa Quindi mi vedo male A dare consigli agli altri Però forse le cose Viste da fuori Quando tu vedi una situazione da fuori Sei più Diciamo che riesci Ad avere una dimensione diversa Di quello che sta succedendo agli altri Piuttosto di quello che sta succedendo a te Quindi io mi tolgo E cerco di dare consigli agli altri Non lo so Io per ora Guarda Mi accontento Di fare questa cosa Che come dico io È un numero zero Che dura per un mese Sono molto felice Di questa esperienza Che mi stanno facendo fare Sono Su Rai Uno Che è prestigiosissima Lavoro A fianco di una persona Alla quale voglio molto bene E che stimo professionalmente Perché l'ho detto sempre Per me Lui è il più bravo di tutti Ed è una persona Molto per bene Difficile incontrarne In questo ambiente Per cui Di più Che cosa potrei volere Se poi continua bene E se no Boh Non lo so Andrò al mare Alla quale